72 anni dopo la frazione di Solcio di Lesa ha celebrato il ricordo delle vittime dell'eccidio perpetrato dai nazi fascisti il 24 marzo del 1945. La ferrea legge dei tedeschi imponeva che per uno di loro ucciso dai partigiani dovevano pagare con la vita 10 italiani. Un tedesco venne ucciso nei giorni precedenti dalle pattuglie della Valtoce e dal Redi. Il 24 marzo il rastrellamento e la fucilazione, là dove ancora oggi c'è il Cippo, accanto al vecchio imbarcadero. Sotto i colpi dei tedeschi caddero a terra i tre fratelli Beltrami di Legro d'Orta, Adolfo, Cipriano e Giovanni, poi Gian Mario Comina, Giorgio Fagnoni, Tersilio Lilla di Sovazza e Pietro Tondina, tutti della divisione Valtoce. Rimasero esanimi a terra anche Severino Gobbi, Paolo Torlone di Belgirate e Pietro Travaini della divisione Redi. Il giorno dopo a Belgirate venne ucciso Cesare Simoncini, undicesima vittima. Alla cerimonia, promossa come consuetudine sul Lungolago, c'erano i rappresentanti dei comuni del Verbano e del Vergante con i rispettivi gonfaloni. Non sono mancate le associazioni combattentistiche di tutto il territorio. I ragazzi della terza media hanno letto brani e i testi delle canzoni di Bob Dylan e La guerra di Piero di Fabrizio De Andrè. La banda La Volpina di Lesa ha intonato alcuni motivi e ha chiuso sulle note di Bella Ciao. L'orazione ufficiale è stata affidata a Laura Pezzi dell'Istituto Fermi di Arona. Dopo la commemorazione sul piazzale è partito un corteo sino al cippo che rievoca l'eccidio dove Don Massimo Galbiati, il parroco, ha impartito la benedizione. Domenica, Invorio e Paruzzaro hanno ricordato anche il loro eccidio. Anche in quell'occasione dieci partigiani caddero sotto i tiri dei tedeschi.